Noi abbiamo fatto come sempre un anno in crescita e un anno eccezionale che ci porta a dare alle imprese e ai lavoratori grande soddisfazione sia in termini di produzione che creazione di lavoro. Prossimamente abbiamo grandi progetti ma oggi mi piacerebbe parlare del domani. PNRR ci porta grandissimi appalti, anche nella nostra città ci saranno infrastrutture di grandissime dimensioni proprio sul fronte della migrazione che proprio in questi giorni abbiamo incontrato anche al Ministero gli addetti ai lavori, in questo caso era con la Tunisia, cercare di andare su quei territori dove loro hanno una grandissima forza lavoro, hanno la voglia, hanno la passione, hanno il credere nel futuro. Lì dobbiamo andare a formare, lì dobbiamo costruire delle scuole, quindi io mi auguro che fra 15 anni la scuola sia il doppio con lo studentato e diciamo dai territori oggi più bisognosi creiamo due condizioni ideali. Quei territori virtuosi e noi diciamo insieme a loro una possibilità di vivere meglio tutti assieme. Grazie e buone vacanze!